Marco Cavallo è una storia bella, molto bella e lunga, è una storia di liberazione. Questo cavallo è nato nel 73, nel manicomio di Trieste c'era un cavallo vero che si chiamava Marco Cavallo, che trasportava il carretto della biancheria sporca e pulita ed era arrivato alla fine della sua carriera. Doveva andare al macello, era già stato venduto, erano i primi giorni che si apriva l'ospedale e c'è stata una piccola presa di coscienza stimolata proprio dai pazienti perché amavano molto il cavallo. Il cavallo, i gatti e i colombi erano gli amici veri che avevano a San Giovanni e quindi è coinciso con l'arrivo di Giuliano Scabbia, di Vittorio Basaglia, degli allievi dell'Accademia di Venezia, che in un primo reparto vuoto dice che facciamo, che facciamo? E' venuto fuori che si parlava del cavallo, facciamo il cavallo. Il cavallo ha avuto, il cavallo azzurro, ha avuto il potere di fare in modo che Marco Cavallo Vero fosse acquistato e portato a fare la sua pensione in una bella fattoria in Friuli e da quel momento ha cominciato a girare il mondo. Come vedete sta qui a Iseo, sono passati 45 anni e continua a correre. Ha fatto il giro per i manicomi giudiziari, è studiato nel senso che gli studenti di antropologia a Berkeley dove mi hanno invitato perché vogliono sapere del cavallo, ma al di là di tutto dovunque arriva racconta una storia che è sempre una storia di liberazione.